Ho fatto sicuramente che il mio figlio conosce molto di lui, anche quando è nato dopo di Diego Maradona come giocatore. E lo so che il mio figlio farà sicuramente che un giorno, quando è un padre, non farà i bambini perdere. Quindi ho fatto il mio figlio. Ad effetto precisissimo proprio all'incrocio dei bambini.